Siamo passati all'Inter, Inter in crisi nonostante il gol di Schillaci dopo appena tre minuti di gioco ma il Genoa del Professor Scoglia, anche se lui si è definito un maestro elementare dopo la vittoria contro i Nerazzurri, va a pareggiare con Gennarino Ruotolo ecco il gol, molto bello, Scuravi Ruotolo, 1-1 e poi ancora Scuravi che anticipa Battistini e segna la rete del 2-1 c'è ancora il tempo per vedere il gol del 3-1 uscita di Walter Zenga e poi arriva ancora Ruotolo e va a segnare il gol del 3-1